numero 5 questa friggitrice ad aria ha una potenza di 1500 watt e una capacità di 3 litri e mezzo consente di friggere gli alimenti senza grassi grazie al calore accumulato nella camera di cottura il cestello è estraibile per una facile pulizia disponibile nel colore nero offre uno schermo digitale touchscreen la temperatura è regolabile la friggitrice dispone di 6 metodi di cottura e di funzione grill se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 4 questa friggitrice ad aria calda consente di cuocere piatti gustosi e croccanti senza l'utilizzo dell'olio a 1000 watt di potenza e una capacità di 2 litri dotata di un pulsante di accensione e spegnimento e di un timer regolabile fino ad un massimo di 30 minuti l'intervallo di temperatura varia dagli 80 gradi ai 200 a differenza delle friggitrici tradizionali questo prodotto permette di cucinare velocemente in modo uniforme grazie alla rapida circolazione dell'aria calda all'interno la friggitrice permette inoltre di grigliare arrostire e cuocere puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 3 friggitrice ad aria calda con una potenza di 1000 watt e una capacità di quasi 4 litri dotata di un display digitale facile da usare e un timer da 60 minuti questa friggitrice permette di controllare con precisione i tempi di cottura e la temperatura che arriva fino ai 200 gradi l'aria riscalda rapidamente e cuoce in modo uniforme per risultati perfetti ogni volta gli alimenti con questo dispositivo saranno più sani e leggeri trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 fritture senza grassi grazie alla cottura ad aria calda di questo dispositivo la friggitrice ha una potenza di 1000 watt e una capacità di 2 litri il cestello antiaderente è removibile design compatto e salva spazio potrai cuocere arrostire e grigliare i tuoi piatti preferiti con l'80 per cento di grassi in meno idea regalo per ogni occasione ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 ottimo rapporto qualità prezzo per questa friggitrice ad aria ha una capacità di 3 litri e mezzo offre sei programmi impostati su schermo touchscreen potrai preparare i tuoi piatti preferiti senza fumo e senza grassi il cibo cuoce in modo rapido e uniforme questa friggitrice è ideale per quattro persone dispone di spegnimento automatico e controllo preciso della temperatura l'esterno della friggitrice è resistente al calore e il manico isolato protegge dalle le scottature il cestello rimovibile con rivestimento antiaderente è lavabile se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione il link in descrizione